amici della FISO continuano ad arrivare i vostri messaggi e quindi andiamo con la terza carrellata di video degli orientisti in quarantena ciao da Nicola dell'associazione asiago sette comuni dal veneto sono un componente della nazionale di treno anche per me la routine quotidiana è cambiata durante le giornate riordino i report aziendali mi alleno con esercizi per il corpo preparo gli incontri via skype di tecnica per la società con street view e virtual orienteering partecipo alle gare online dei trail o preparo il futuro qui nei boschi dell'altopiano pensando già alla fase 2 io resto a casa sono anna anche qui in provincia di belluno si studia ci si allena da casa speriamo di vederci presto nei campi gara un saluto a tutti ciao a tutti anch'io come ero in questo periodo resto a casa grazie allo sbaguoti lavoro da casa direi normalmente e nel tempo libero cerco di tenermi in forma con un po di allenamento fisico allenamenti a secco e lascia che a viaggiare sia la mia fantasia stiamo a casa e a presto sul campo di gara ciao a tutti sono Bertilla come tanti di voi durante la settimana lavoro per fortuna e lavoro da casa mentre nei weekend sfrutto le opportunità dei giochi barra pseudo allenamenti con virtual del tempo e del preo sperimentando nuove tecniche per rinnovarsi e vi auguro a tutti buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti